mobilità emissioni zero per tutti questo è il tema della settimana europea della mobilità di quest'anno il tema ci fa focalizzare su tre obiettivi il primo sicuramente di tipo ambientale fa riferimento a l'obiettivo di neutralità delle emissioni però ci ricorda anche quanto sia importante l'accessibilità e l'inclusione delle persone ispra con il sistema di protezione ambientale ha deciso di lanciare una serie di video di promozione della cultura della mobilità in bicicletta lavoro bici città è rivolto a tutti i dipendenti ma i cittadini in senso generale che utilizzano la bicicletta ma anche che vogliono cominciare ad utilizzare questo mezzo i brevi video di mobilità ciclistica hanno diversi temi il primo è la presentazione ambasciatori della bicicletta in cui il nostro direttore decinerà il tema per i dipendenti il secondo è la lettura di alcuni brani dell'elogio della bicicletta di vanillic il terzo affronta il tema del ciclismo urbano come prepararsi conoscendo le regole il terzo riguarda l'utilizzo e la manutenzione della bicicletta espressi in pillole naturalmente il quinto il rapporto che hanno i dipendenti con l'utilizzo di questo mezzo e quanto è importante per loro e quanto è importante per l'ambiente infine la parola ai mobility manager di ispra e del sistema di protezione ambientale ci vediamo il 22 con la prima proiezione di questa serie di video grazie a tutti